Ethereum si aggiorna a Sciapella e va tutto abbastanza bene ragazzi e i mercati iniziano un po' a festeggiare proprio negli ultimi due giorni, se non che comunque in questo momento abbiamo una presa di profitto proprio su Ethereum ma anche su Bitcoin che sta un po' creando una candela che a livello daily ragazzi non è delle migliori. Poi c'è anche un'altra questione cioè il fatto che Ethereum è arrivato su un livello di resistenza importantissimo quello dei 2000 dollari, ha provato il break, nella giornata di ieri c'è riuscita però un pochino è ritornato indietro, adesso sta in pratica ritornato, lo vediamo oggi proprio in questo video. Come stanno andando invece i withdraw di Ethereum dal post quindi dalla stake nel momento in cui è stata data la possibilità a questo mercato di muoversi? Tutto quello che ci siamo detti nel video di Shanghai Capella di Ethereum si è andato a verificare un tastello dopo l'altro con l'effetto domino ma c'è l'ultimo ma se vi ricordate in quel video ragazzi chi di voi non lo avesse visto può andare a rivederlo, vi metto il link sulla mia testa. In pratica la parte fondamentale lo avevamo analizzato ragazzi che sarebbe stata migliorativa per Ethereum per una serie di motivi ma la parte di analisi tecnica di breve periodo e di analisi ciclica era delicata ed è delicata proprio su un punto Cioè la possibilità che si vada a innescare un effetto riflessivo di paura con una quantità di Ethereum che sono stati unstaccati quindi tolti dallo staking A quel punto si potrebbe innescare una spirale forze anche manipolatorie. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video e parliamo di Bitcoin ma parliamo anche della regione delle cripto Oggi li mettiamo un po' insieme a dire la verità ragazzi Bitcoin era di un gold questo qui gold gold ma si è schiarito perché è una cinesata Questo che era invece di Ethereum era argento ed è diventato uguale a Bitcoin cioè praticamente adesso è lo stesso colore voi non lo vedete vabbè Monete cinesi vabbè si scoloriscono va bene detto questo inizierei subito a vedere la questione legata all'update di Chapeya che cosa ha combinato in termini di withdraw di Bitcoin ci vuole un po' di tempo ragazzi questo ve lo dico Sono dati che hanno un senso analizzarli sicuramente però dovete capire che siccome è iniziato qui tutto il processo Per stabilizzarsi ci vuole un po' di tempo morale della favola la questione più importante resta secondo me la questione legata alla questa curva Cioè questa curva qui che è una curva che secondo me possiamo tranquillamente andare a vedere come il risultato Il risultato dei depositi di Ethereum verso i prelievi però è il risultato in sostanza di un nuovo equilibrio di stabilità in termini fondamentali Quindi non in termini di analisi del prezzo ma in termini di struttura del proof of stake di Ethereum E quindi deve assolutamente ritornare se non ad avere un trend crescente ma avere un trend di in pratica di base ragazzi ok Un trend dove i depositi non sono negativi sono leggermente positivi sarebbe meglio chiaramente ma non devono essere assolutamente in declino Quindi qui comunque si vede in maniera abbastanza sostanziale che la quantità di deposito è stata molto negativa In questo momento siamo a meno 47.000 Ethereum È normale che sia fatta una cosa del genere Molti li hanno prelevati per farci altre cose, li stanno vendendo o li stanno ridepositando per esempio in DeFi Semplicemente li vogliono tenere liquidi in attesa di vedere cosa fa il mercato Allora queste sono le domande Cosa può succedere a questo punto? Se questa curva si ripristina in maniera corretta nell'arco dei prossimi giorni Vi ripeto questa è una fase normale Poi adesso per esempio anche nell'ultima ora è iniziato una nuova struttura al riazzo Vediamo se riesco a fare un po' di zoom Niente non riesco più di questo ragazzi Allora se vedete qui è iniziata comunque una... Ci sto quasi riuscendo ragazzi ok E vedete qui è arrivata una nuova fase al rialzo Vedete da qualche ora Quindi bisogna un po' ragionare esattamente guardando questa questione qua Cioè la questione se da qui in poi questa trend ritorna ad essere crescente o ad essere stabile Tutto qui Nella fase iniziale questi tot mila Ethereum sono stati tolti dagli stake Quindi ora sono disponibili e possono essere venduti e sellati Quindi abbiamo due strutture che si stanno andando a delineare Da una parte lo stake che deve ribilanciarsi su un punto di equilibrio Dall'altra una quantità di offerta di Ethereum che comunque è aumentata in maniera considerevole in questo momento Perciò se da un lato abbiamo analizzato in lungo periodo come questo effetto della flessibilità dovrebbe far aumentare addirittura gli Ethereum in stake E quindi seguire un andamento più lineare D'altra parte questa flessibilità rende anche possibile un po' di panic selling nei primi giorni Quindi proprio nei primi giorni se Ethereum dovesse iniziare a invertire il trend di breve Probabilmente qualcuno di questi depositari potrebbe dire Dopo un tot di tempo inizio a sellare perché magari sta invertendo il trend E insomma quindi si potrebbe innescare un po' un effetto riflessivo di cui abbiamo parlato proprio in quel video Perciò ragazzi settimana questa e la prossima sono delle settimane importanti Poi fino a quando questa curva non si ristabilizza per quanto riguarda Ethereum Quindi questo numero non diventa o positivo o stabile E' pericolosa la questione quindi bisogna vedere appunto un andamento di Ethereum contro dollaro Che rimane stabile al rialzo ragazzi Ve l'avevo spiegato che è difficile che un investitore di Ethereum dopo anni di stake Va a chiudere lo stake a vendere Ethereum contro trend di mercato In un momento insomma che poteva già farlo precedentemente Però laddove io ho tolto tutto dallo stake e mi inverte il trend Di breve la paura magari potrebbe innescarsi con il fatto che ci sono 70.000, 40.000, 50.000 Ethereum Che sono stati inalteccati Poi nel momento in cui io li vado a togliere lo stake Si innescono inversioni di trend Tutti hanno paura che quelli vendono Incominciano a vendere Effetto valanga e riflessivo Questo è concettualmente il discorso Allora bisogna tenere i nervi saldi Ma capite bene che questa variabile c'è Ne ho parlato sul canale Telegram proprio questa mattina Vi faccio vedere, eccolo qui Dove appunto andavo a dire proprio questa cosa ragazzi Cioè erano 72k nelle ultime 24 ore Attenzione ai cambi di fronte Perché nel momento in cui si rigira la questione Si potrebbe creare appunto un effetto valanga E proprio questo bisogna farci fare attenzione Poi magari sarà un buy the dip fantastico Però sicuramente meglio evitare queste fluttuazioni Soprattutto per chi magari è un po' ancora inesperto Va bene, allora detto questo andiamo a vedere il grafico di Ethereum E poi Bitcoin Per vedere anche Bitcoin cosa sta facendo Un po' stanchino forse Bitcoin Allora Ethereum ragazzi è su questo livello di resistenza Che è intorno ai 2000 e qualcosa 2030 dollari 2050 dollari Non riesce a breccarlo Ora che nella giornata di oggi Facesse un break senza alcuna difficoltà Non me lo aspettavo È molto difficile Questo non avviene solitamente ragazzi Perché quando ci sono delle resistenze molto importanti come questa È chiaro che il mercato prova il breakout Poi ritorna un po' indietro Perché l'equilibrio tra orsi e tori Deve tastare le forze dell'uno Le forze dell'altro Quindi nel momento in cui io faccio un break E poi quel break viene confermato Allora c'è un impulso maggiore Nel momento invece in cui quel break lì Ancora non è confermato Sono in bilico Quindi anche i tori hanno paura Quindi nel momento in cui il mercato torna indietro Magari cosa fanno? Incominciano a sellare A vendere A tirarsi i remi in barca Insomma eccetera Allora questo è quello che avviene in questa candellina Che vedete Questo piccolo disegnino qui Esattamente Allora se invece dovesse confermare Come vi dicevo L'esplua di ETH potrebbe avvenire Nei prossimi giorni Andando a testare questo livello di resistenza Di 2004 Che è assolutamente un livello raggiungibile E' proprio in questa tornata Qualora questa resistenza venga confermata Poi è chiaro ragazzi Ci sono insomma gli atteggiamenti dei mercati Perché devono essere seguiti Noi possiamo sapere se ci arriva alla perfezione Però vedete qui un 15% di app Si può andare tranquillamente a creare Se questa breakout venisse confermata La conferma dovrebbe avvenire al giorno di oggi Già vi dico che è una conferma A questi prezzi 2060 Secondo me non è una conferma Perché ragazzi Quando parliamo di criptovalute E parliamo di un livello che è 2030 dollari Io non posso avere un breakout di quel livello Di 10 dollari 20 dollari Cioè dello 0,1% Perché è troppo poco rispetto alla naturale volatilità di quel mercato Questo è un concetto che gli analisti quantitativi conoscono molto bene I breakout vanno validati C'è una lezione del mio corso che insegna proprio questo Cioè la validazione del breakout Quando avviene un breakout e va validato Il mercato dovete dargli un po' di movimento Quindi non è che lo potete constatare a un dollaro O un centesimo di dollaro Non si può fare così Anche questo è un errore tipico che si fa Quando non si ha una formazione E poi magari si dice La mesi tecnica non funziona Solo perché semplicemente quello che si è imparato è sbagliato Questo è concettualmente il discorso Quindi questa questione del breakout deve avvenire sicuramente intorno ai 2100 Confermandoli in close Tutti i livelli al di sotto di quei 2100 sono pericolosi Allora può confermare poi il giorno dopo tutto quello che vuole Il mercato però resta un po' Va pericolosità Quindi va un po' tradata questa cosa Da un punto di vista invece di analisi ciclica Ethereum è in una posizione molto particolare Perché io continuo ad avere fortemente dubbi Che il ciclo di Ethereum annuale non sia effettivamente iniziato Anche lui a novembre Come quello di Bitcoin Semplicemente facendo una semestrale rialzista Strano doveva essere ribassista Ma comunque se poi guardiamo le close non è così tanto rialzista Quindi è in barra di congestione Ma un po' anomalo e un po' modificato Dalla questione legata al passaggio al proof of stake Che è avvenuto proprio in quel semestrale lì Quindi ok c'è una questione di analisi ciclica Di andare a ragionare Teoricamente non può appartenere all'anno precedente Però c'è anche da analizzare poi Quelli che sono i costrutti delle criptovalute Quindi la struttura di base della criptovaluta Lì è avvenuto un cambio epocale per Ethereum Quindi nel momento in cui io vado ad analizzare questa cosa Devo anche ricordarmi di cosa sto parlando Non posso avere i paraocchi così Con l'analisi ciclica e dire Ah c'è solo quello Certo li valutiamo entrambe Però l'idea in ogni caso ragazzi Che anche Ethereum potrebbe aver fatto In effetti un annuale da novembre C'è ancora Perché cosa cambia? Cambia molto ragazzi In quanto se l'annuale di Ethereum è iniziato a giugno Questa fase rialzista ai giorni contati Perché siamo in un tot di tempo Già abbondantemente avanti E quindi se l'annuale è iniziato a giugno Per quanto riguarda Ethereum Noi siamo a 300 giorni Deve andare in close annuale Che potrebbe avvenire da maggio praticamente Maggio in poi Fino anche diciamo ad agosto Quindi questa zona qui Però di solito in quella fase lì Poi il mercato incomincia a tentennare Fa dei trend al ribasso Che durano magari un paio di mesi Un mese Un paio di mesi Quindi ci può stare tranquillamente In questo caso Se l'annuale di Ethereum è iniziato qui Che stiamo andando a fare i massimi dell'anno Per Ethereum E fatti i massimi dell'anno Poi si scende per una quarantina di giorni Un mesetto Magari fanno un laterale ribassista Se invece questa cosa non avviene È perché Ethereum ha chiuso l'annuale a novembre Insieme a Bitcoin Facendo appunto questo fake mostruoso Di analisi ciclica Che però potrebbe essere accettato Solo e unicamente per il concetto Del passaggio a proof of stake Quindi un po' Io sono Mi tengo con due piedi in una scarpa Ve lo dico francamente Monitoro la prima ipotesi E anche la seconda Perché non c'è una soluzione A questo punto In quanto Se non ci fosse stato il passaggio a proof of stake Ero Propenderei un po' di più per la prima ipotesi No? Annuale da giugno Ma col passaggio a proof of stake Che con l'atteggiamento di Bitcoin Mi tengo in trampe le opzioni Ma lo scopriremo solo Vivendo come si diceva In una canzone Interessante però Che questa cosa Che meraviglia Il mercato delle cripto ragazzi Ok? Mi raccomando Va amato anche da questo punto di vista Per la sua peculiarità La sua particolarità Che lo rende unico no? Rispetto ai mercati classici Dove una cosa del genere Praticamente è impossibile Passaggio a proof of stake Un aggiornamento del software Che meraviglia Allora Questo tipo di Di struttura Poi tra l'altro Questo triangolo Che avevamo messo tempo fa Una volta che è stato breakato Anche qui Guardate La precisione La perfezione Delle analisi tecniche Vi faccio vedere Tra l'altro Anche qui Il break Simile Alla giornata di oggi Guardate che fa Allora fa un break Poi se lo rimangio il giorno dopo Ci riprova E poi arriva il vero break Che è questo qui Allora capite come funzionano i break out Un po' giusto per farvi vedere Ma guardate che cosa fa Break di questo triangolo E poi se ne parte con un trend Analisi tecnica L'ABC I primi capitoli Veramente Ha saputo applicare Una potenza di fuoco Inaudita ragazzi Per prendere parte A questi processi Perché Da qui Non dico dai minimi Da qui Siamo andati a più 22 O più 18 Comunque Anche seguendo dei trend Lineari Quindi niente di anomalo Possiamo togliere questo Triangolone Breccato Come figura di Continuazione del trend E niente ragazzi A questo punto Bisogna attendere Quello che farà Ethereum Vi ricordo che Ethereum Ha iniziato un nuovo mensile Da poco E quello si Si vede Ma rispetto a Bitcoin È più visibile Mentre su Bitcoin Non lo abbiamo Un po' Differente Allora vi faccio vedere Mensile di Ethereum Di qui Passiamo a Bitcoin E poi chiudiamo Il video Con le ultime Conclusioni Il mensile di Ethereum Dovrebbe essere iniziato Proprio il giorno 9 di aprile E quindi star Effettuando In pratica Un altro ciclo mensile Attenzione proprio A questa fase Che questa è una fase Delicata Che porta proprio Il 10 maggio E quindi Se siamo nel concetto Dell'annuale Ancora da chiudere Potrebbe essere L'ultimo mensile A rialzo Proprio per Ethereum E quindi Andrebbe poi Monitorato Per l'anno Vi dicevo Già nei precedenti video Che un po' Il tempo È agli sgoccioli Quindi questo Significa che I giochi Sono fatti E che chi doveva Prendere il gain L'ha già preso Il gain ragazzi Bitcoin ha fatto Più 100% Con i massimi Di oggi Più 100% Da novembre Quindi ha raddoppiato Il valore di Bitcoin Da novembre Questo Dovete comprendere Che concettualmente Assiste a una cosa Del genere Nei mercati Non è semplice Non è banale Quindi è ovvio Che i mercati Un po' Hanno già Dato Andiamo a vedere Poi La questione E quindi Insomma Non è che vi sto dicendo Che adesso Crolliamo ragazzi Però Bisogna tenere conto Del fatto Che a livello Di tempo I mercati Hanno dato Il loro Perché Siamo anche sopra I target stimati Che intorno ai 29 Siamo arrivati a 31 Stamattina 39 C'è ancora spazio Su alcuni livelli Ve li ho segnati qui 1 e 2 Queste zone Però Insomma C'è poi una super resistenza Per bitcoin Che La faccio vedere Nel prossimo video Che terremo Insomma D'occhio Però Bisogna stare attenti A ogni swing Rialzista Perché il mercato Potrebbe effettivamente Virare Qui ho inserito La stessa questione Del ciclo Di ethereum Per quanto riguarda I mensili Di bitcoin Non è proprio preciso Non è proprio corretto Questa view A livello ciclico Ma comunque cambia poco Dovremmo unire Entrambi i mensili E vedere un po' Quello che farà Attenzione a questa candela La classica Adela di inversione Di trend È pericolosa Ve lo dico proprio chiaro È pericolosa Nella giornata Di domani E dopo domani Non dobbiamo Assolutamente Breccare questo livello Che sono I 29 E 6 29 E 7 Questa zona qui Se questo livello Brecca Il mercato va In un trend Di brevissimo Al ribasso E quindi poi potrebbe Magari fare una cosa Del genere E correggere Un pochino Di più Ragazzi Posizionandosi Magari vicino Ai 29 Niente che sia Da Andare ad analizzare Per quanto riguarda Gli holder Che Se hanno seguito Il mio consiglio Di inizio anno E si sono posizionati In questa fase E qui intorno ai 21 E qualcosa Sono In una botte Di ferro Questo vuol dire Ragionare un po' Anche da holder Intelligente Quindi non Coi paraocchi Ma ragionare un po' Siete in una botte Di ferro In questo caso Perché Non subite le oscillazioni Del mercato Più di tanto In quanto avete Un prezzo di ingresso Corretto Posizionato nel centro Di quella barra Vi ricordate Quel video Importantissimo Detto questo Nella prossima settimana Dovremmo assistere Appunto A una presa Di posizione Dei mercati E delle cripto E dovremmo ragionare Anche su un altro Fattore Che vi faccio vedere Velocemente Con un altro grafico Di cui veramente Abbiamo parlato Tantissimo tempo fa Ed eccolo qui Ragazzi Qualcuno di voi Se lo ricorda Il grafico Dello spread Del tasso Di inflazione Con i Fed Fund E io vi Dicevo Il rialzo Dei tassi Le politiche restrittive Della Fed Si fermeranno Quando noi Avremmo raggiunto Questa linea Verde Così è Manca l'ultimo Tassello L'ultimo rialzo Da parte della Fed Dopo Cosa cambia La politica restrittiva Il rialzo Dei tassi Si ferma Quindi tutto Cambierà A livello di analisi Dei settori Finanziali Perché Ogni settore Prenderà la sua strada Quindi una volta Svolto il lavoro Delle banche centrali Sarà così Bisogna poi vedere Se si assesta O meno Se deve fare Qualche correzione Ma non sarà Così importante Quello che farà Più la banca Saranno poi I settori singoli Da dover Agire Di solito Attenzione A un'altra cosa A una variabile Interessante Se andiamo Troppo sotto A questo livello Se scendiamo Troppo sotto La Fed Abbassa i tassi Ciao a tutti Noi ci vediamo Nella prossima settimana Buon weekend